Ah, passa di quattro Perfetto, bravo Certo E allora Anzi Dove vuoi andare, di qua o di là? Di qua? Bravo E allora E allora E allora Vai, vai E allora E allora E allora E allora E allora Vi PlayStation E allora E allora E allora E allora E allora Alfredo e' un piano che questo non sia un po' di acqua si è un po' di acqua e' 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 un po' di acqua le pietrazione, hai visto il dietro? si e' un po' di acqua 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 se gli parte via e e e ah 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 è una virgola via in che senso? e poi continuo metti la seconda e basta piedi da dentro e piedi quando ci arrivi con la punta qua va benissimo non te ne prenda scatto questo piede sul freno e poi ti raccomando perchè se ti parte va su come ti aspetta su? io lo so però non va bene via non ti aspetta l'acqua è il l'acqua 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.